Tre giorni di mostra mercato, appuntamenti, fumetti, proiezioni e gare cosplay. E' Teramo Comics, una manifestazione tra le più conosciute e apprezzate in Italia, che per tre giorni ha richiamato in città appassionati da tutto il paese. L'evento, che alla sua 26esima edizione, è stato adottato dall'Università di Teramo, che negli ultimi tre anni ha messo a disposizione degli amanti dell'arte e del fumetto il Campus Teramano. E come sempre è stato un successo. Siamo particolarmente contenti che anche quest'anno l'Università di Teramo è partner ed ospita nel suo Campus Universitario Teramo Comics 2018. Molti eventi, molti convegni, molti seminari, molti workshop che hanno coinvolto non solo tutti i giovani e le giovani della città di Teramo, ma anche numerosissime scuole della provincia e della regione Abruzzo e anche tutti gli studenti della Facoltà di Scienze e della Comunicazione. Contento che quest'anno c'è una novità rispetto agli altri anni, quella del premio di tesi di laurea di Davide De Carolis. Sono stati tre i premi che abbiamo voluto riservare a tre neodottori dell'Università Teramana, che si sono distinti nell'ora elaborato per rigore e metodo scientifico, ed hanno approfondito tematiche sulla responsabilità sociale, il rispetto ambientale e la pianificazione dei rischi. Una grande novità che ci vede orgogliosi in questa partnership e in questi riconoscimenti di temi di ricerca. La ventisiesima edizione di Teramo Comics si è conclusa con una suggestiva gara cosplay in esterno, condotta da Epicos, alla presenza di numerosi visitatori e artisti collegati al mondo del fumetto.